Pace e bene cari amici, bentrovati. In questa ventesima domenica meditiamo sul testo di Luca 12, 49, 53. Un testo che possiamo dividere in due parti. Versetti 49 e 50 che danno uno spaccato dei sentimenti che hanno animato il cuore di Cristo e il fine della sua missione, portare fuoco sulla terra. Poi ciò che comporta a volte accogliere Cristo che è la divisione. Ma cerchiamo di capire meglio, tuffiamoci nel testo. Al versetto 49, come vi dicevo, c'è dato uno spaccato dei sentimenti che hanno animato Cristo. Gesù è in cammino verso Gerusalemme dove darà la vita per noi. Uno si potrebbe chiedere, ma con che sentimenti? Tipo collo tirato, ci vado perché devo? Oppure un po' snervato nei confronti delle sue creature? No, sono venuto a portare fuoco sulla terra e quanto vorrei fosse già acceso. Uno dice, ma che è un piromane, in che senso portare fuoco? No, è ovviamente qualcosa di più profondo. Nell'Antico Testamento il fuoco che scende dal cielo è immagine dell'azione di Dio che viene, ricordate per esempio, a purificare, a consumare i sacrifici. Quindi è immagine del fatto che Gesù dice, io sono venuto a portare il fuoco d'amore di Dio, la presenza di Dio sulla terra, quanto vorrei fosse già acceso. Cioè in una parola Gesù è arso d'amore. Gesù, che è Dio fattosi uomo, arde d'amore per noi, è pieno d'amore per te. Ma farne memoria, ritornarci su, guarisce e libera i nostri cuori, affamati d'amore, che spesso lo cercano nei posti e nei modi più sbagliati. Guardare la croce e dire con San Paolo, Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. Chi sono io, chi sei tu? Qualcuno per cui Dio ritenga necessario dare la sua vita. È veramente un mistero d'amore immenso il suo. E ancora Gesù dice, ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato che non sia compiuto. Ma come, non era già stato battezzato prima nel Giordano? Sì, ma qui per battesimo si intende qualcosa di più profondo, tra l'altro simboleggiato anche al Giordano. Gesù si è battezzato, in greco vuol dire si è immerso. Dove? Gesù dice, io sarò immerso nella passione, nella morte, cioè io andrò fino in fondo, il mio amore per voi non sarà acqua zuccherata, andrò fino in fondo, attraverserò la morte, scenderà gli inferi per poi risorgere e diffondere così lo Spirito Santo. Infatti Gesù dice, come sono angosciato finché non sia compiuto. Cosa dirà in croce? Tutto è compiuto. Quindi Signore, vedete, va verso Gerusalemme, arso d'amore e desideroso della nostra salvezza, di darsi per ognuno di noi fedele alla volontà del Padre, che è quest'amore infinito per le sue creature. Ed è, vi ripeto, bellissimo non solo saperlo, ma farne esperienza e in più accogliere in noi quest'amore. Sì, perché noi possiamo accogliere quello Spirito Santo e farne sempre più esperienza, quello Spirito che ha preso dimora in noi con il battesimo, momento in cui Dio ci ha uniti a sé, ci ha resi partecipi della sua vita, e fare esperienza della beatitudine che la porta di tutte le altre, che Gesù dice, beati i poveri in spirito, cioè beati quelli che mendicano lo Spirito Santo, beati quelli che chiedono a Dio lo Spirito perché di essi è il Regno dei Cieli. Verete, noi a volte pensiamo che la nostra vita possa cambiare solo a suon di sforzi, cioè io mi impegno, lavoro di più su questa cosa e tempo tot superata. In realtà non funziona così, non andiamo avanti a botte di volontarismo. È importantissimo metterci tutta la buona volontà, per carità, ma prima di tutto c'è da fare esperienza di che? Dell'azione di Dio in noi, della sua potenza che si vuole manifestare nella nostra debolezza. E dunque partiamo dall'invocare lo Spirito, che ogni giorno ci sia questa invocazione forte, viva, intensa, Signore dammi il tuo Spirito, Padre nel nome di Gesù dammi lo Spirito Santo. Per esempio ancora più ho da affrontare una situazione difficile, Signore dammi il tuo Spirito, la tua luce, la forza di affrontarla. Devo avere a che fare con una persona fastidiosa? Vieni Spirito Santo, dammi la forza di amarla, mi trovo ad affrontare una sofferenza improvvisa? Invochiamo lo Spirito, dammi la forza non solo di soffrire, ma di offrire, invocarlo ogni giorno. E allora vedremo che sarà come vi faccio, vi do un'immagine, avete presente una barchetta, no? Che altro è che tu vai avanti a colpi di remi, magari pure con una giornata un po' ventosa e il mare mosso, altro è che apri la vela e lasci che il vento spinga. Ecco, fare esperienza dello Spirito di Dio in noi, che meraviglia. La seconda parte del testo, i versetti 51-53, ci spiazzano un po'. Ecco, il Signore dice, pensate che sia venuto a portare pace sulla terra? Da diremmo, beh sì, almeno tu. No, sono venuto a portare divisione, salute, Signore ti ci metti anche tu. E poi rincara la dose, in una famiglia di cinque, tre contro due, due contro tre, padre contro figlio, madre contro figlia, nuora contro suocera. Beh, forse per questo non c'era bisogno di Gesù, già accade, ma insomma cerchiamo di cogliere più in profondità il motivo. Vedete, accogliere Gesù, accettarlo come Signore nella nostra vita, iniziare a seguire la sua parola, che cosa comporta? Comporta innanzitutto qualcosa dentro di noi e di conseguenza attorno a noi. Dentro di noi che succede? Che accogliere la sua parola significa accogliere una spada, direbbe la lettera agli ebrei, che penetra fino in fondo alla nostra anima, scruta sentimenti, pensieri, e viene a tagliare, a purificare, a togliere ciò che non va. Viene per liberare la nostra vita, i nostri cuori, spesso avvolti tipo salami in legami disordinati o soffocati dai rovi, dalle spine, degli attaccamenti alle cose, ai piaceri. Allora, innanzitutto Dio viene a operare, a purificare con la sua parola, il suo spirito, il nostro cuore. Quindi viene e comporta dei cambiamenti. Non esiste una stasi nella vita spirituale tipo, vabbè, mo' sono arrivato a sto punto, siamo a posto. No. È un continuo crescere, un continuo divenire, un continuo purificare, potare, direbbe Gesù in Giovanni, perché possiamo portare più frutto. Ora, questo dentro di noi ha poi degli effetti anche fuori di noi, con gli altri. Perché? Perché se io accolgo Gesù e qualcosa inizia a cambiare nella mia vita, beh, io l'ho accolto, ma può essere che chi ho accanto non capisca e non accolga. E dunque? E dunque mi mette bastoni tra le ruote, e dunque mi perseguita, mi prende in giro, mi ostacola. Non, diciamo, per cattiveria, ma perché non capisce, perché non sta accogliendo, non sta entrando nella stessa novità di vita. Sullo sfondo, qui, la comunità ai tempi di Luca viveva tante sofferenze, gli scontri col giudaismo. Pensate poi man mano l'impero romano, che in diversi momenti perseguiterà i cristiani. Pensate così come icona Santa Barbara, che decenni e decenni dopo verrà uccisa dal padre perché non accettò la sua conversione, lui che era, se non ricordo male funzionario di Roma. Ora, che cosa succede anche nella nostra esperienza? Che quando una persona accoglie Gesù, inizia a cambiare. E tante volte parenti, amici, conoscenti, non ti capiscono e ti osteggiano. È particolare vedere nel Vangelo che la divisione avviene proprio nei legami più intimi, perché vedete, tante volte a soffrire maggiormente, ad ostacolarti maggiormente, sono quelle persone che pensano di conoscerti più di tutti. È nel caso di un genitore che a volte pensano di, diciamo così, proiettare sui figli i loro desideri, i loro progetti, o di aver esaurito il mistero della persona, del loro figlio, della serie So io cos'è bene per te. Non è possibile questa cosa. Pensate, non so, a un giovane che per esempio è chiamato dal Signore alla vita consacrata. Quante volte i primi a ostacolarlo sono i genitori, e a volte magari pure che frequentano la Chiesa. Perché? Perché per loro non è plausibile che Dio possa chiamare il figlio o la figlia. Sicuramente o è stato plagiato, o in momento di crisi, o ha un'infatuazione. Ecco, tante volte, pensate a San Francesco d'Assisi, il taglionetto che dovrà operare con suo padre, non più padre mio Bernardone, ma padre mio che è nei cieli. Altre volte, ecco allora l'amico, ecco la fidanzata, ecco il marito, la moglie, che non capiscono, che brontolano, che piantano i piedi. Cosa è importante fare in queste situazioni? La perseveranza. Perseverare ovviamente trovando un giusto equilibrio di vita, ma perseverare e quindi sopportare, mostrare l'affabilità, cercare di andare incontro, ma essere fermi nel bene. Perché vedete, il Signore viene a potare, viene a tagliare, per poter così costruire meglio. Quante relazioni sono mal costruite, quante volte viviamo una finta pace. E concludo, vedete, Gesù è venuto a portarci la vera pace. Altrove ci ha detto, io sono venuto a portare la pace, ma non come la dà il mondo. Nel mondo spesso la pace che viviamo è falsa. A volte nelle famiglie si sta in pace perché uno domina e tutti i sottomessi. A volte si sta in pace nelle amicizie o nelle comunità perché semplicemente ci si tollera, ma non ci si dice le cose e dietro ci si sparla. Il Signore invece viene a far verità nei nostri cuori e nelle relazioni perché possiamo costruire una pace vera, fondata sulla verità, sull'amore autentico, sulla chiarezza, sulla trasparenza. E allora che ben vengano le potature se possiamo portare più frutto nella nostra vita. Dunque, chiediamo al Signore che il suo spirito infuochi i nostri cuori e che possiamo costruire relazioni vere, autentiche, non fondate sull'ipocrisia, ma sulla verità, pace e bene.